Negli anni più duri della crisi finanziaria il mondo del credito cooperativo ha svolto una importante funzione anticiclica, conservando in media un buon livello di patrimonializzazione e in alcuni casi addirittura superiore a quello delle banche di sistema. Le piccole banche infatti hanno continuato a erogare prestiti alle piccole imprese proprio negli anni in cui il sistema bancario in generale operava una stretta creditizia dovuta al clima ovviamente di profonda incertezza. Hanno anche protetto le banche piccole molti posti di lavoro negli sportelli territoriali in un contesto in cui l'intero settore ha affrontato una grave perniciosa crisi occupazionale. Secondo alcuni studi pubblicati da Federcasse infatti, per ogni 100 euro raccolti sul territorio le banche di credito cooperativo ne hanno impiegato in media 85. Di questi 81 sono stati reinvestiti direttamente sullo stesso territorio dal quale si originava la ricchezza. La tutela della diversità bancaria quindi è una ricchezza, anche in un mondo che necessita di efficienza, di innovazione tecnologica, in un contesto di competizione globale. E anche il Premier Conte nel suo discorso ha sottolineato l'importanza del localismo bancario, dell'attività svolta dalle banche locali. Sì, perché il problema che si pone è che quando sul territorio non ci sono intermediari finanziari, non ci sono banche che sono locali, quelli che sono e che potrebbero essere di clientela marginale, diciamo così, non vengono presi in considerazione dai grandi istituti. Quindi noi siamo contenti di poter svolgere questa attività a servizio delle comunità e ci siamo ritagliati di un ruolo anche abbastanza importante perché comunque facciamo parte della infrastrutturazione finanziaria che esiste in questo Paese.